Ciao creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cozai ASMR. È il continuato del video di domenica scorsa che sto facendo con la vicina che sta facendo un casino, spero non si senta ma abbastanza per una volta. Posso solo adesso fare il video, quindi ci dobbiamo accontentare. Abbiamo le zero stelline perché abbiamo appena consumate alla fine, per la sì e per questi ricordi. E ancora stiamo qua a rosicare per la vincita non fatta delle oggetti di Halloween, ma andiamo a giocare a vincere le nostre stelline. Che poi scusami un attimo, scusami un attimo, ma cosa sarà mai? Sarà la parete secondo me che dovremmo scegliere? Perché abbiamo scelto questa parte qua, così, penso eh. Ok, non ho fatto una gran presentazione in questo video perché hai già saputo tutto nell'altro, quindi non stiamo qua a perderci in chiacchiere, non vogliamo vedere il gameplay. Sì, giusto? Benissimo. Allora io direi che qua mettiamo le calze e di là mettiamo le muciance. E va bene così. Vabbè, canzini viola top, bellissimi. Poi... Non lo so, intanto qua mettiamo i pantaloni, poi se dobbiamo metterli qua li metteremo qua. Però adesso non lo sappiamo ancora. Per adesso... Sì, pensate sì perché non c'è stanno tutte queste cose. Solo che adesso non so quanti ce ne siano, no? Per... Per metterli vicini. Ce ne sono due, ce ne sono tre, ce ne sono quattro, ce ne sono venti. No? Non c'è ancora dato saperlo, quindi intanto mettiamo giù le cose qua. che abbiamo per certe, quasi, più o meno. Un'altra crepina qua. Ah no, non lo so. Aspetta. Non lo so, vedi? Sono quasi diversi. Olora rosa, verde, azzurra. Ok, no, così. Un calzino marrone. O aggiornale. Una carpina proprio, di un colore sombrio ed elegante. Allora... sono un pantaloncino corti questi spero che siano pantaloncino corti? no questi sono un pantaloncino corti? no gelata io style, questi sono corti sono gonne forse la mutanda marrone suona malissimo via via scarpe e scarpe posizionate ci manca solo una stellina a capire qua come sistemare la faccenda allora io metterei i pantaloni rosa poi questi rosa qua se sono due a due è fattibile verdi anzi ah non lo ho visto vabbè ma niente viola viola sono diversi questi questi sono diversi questo qua questo quelli che ho in coppia li metto vicini questi sono corti li metto di qua questa cona li metto di qua non c'è nient'altro non c'è nient'altro questi sono uguali li mettiamo di qua ne ho solo sono dispari ma questi sono quattro uno due tre allora ho saltato qualcosa questo si cosa tra uno ok mi pare io ok ok perfetto non ho voglia di quella pubblicità quindi andiamo avanti scarta la carta scarta la carta scarta bisogna neanche si appende questo che delusione mi fa ridere scherzo mi interessa volevo dire andiamo già ma invece no perchè sono diventati cari bisogna averne cinque invece di tre ok si va di nuovo di cancelleria si dai qua abbiamo già già capito come funziona secondo me che bello questo colore io lo amo questo è pitoso penso che mi avvicino un po' di più al microfono sono tipo battendo fuori con il solito ah c'era ma manca un giallo manca un giallo manca un colore manca un giallo ah e questo verde qui ok perfetto allora i pennelli come li avevamo messi l'altra volta mi ricordo mi ricordo forse marroni da un lato e dall'altra grigi si faremmo così pensavo avessero diverse forme invece hanno solo il manico di colore diverso di materiale diverso forse anche bene i pennelli ci siano levati di torno per non essere volgari che dire altro non ho voglia di seguire i colori cheat li metteremo random cheat cheat non li sto scegliendo comunque se c'è la nuova vicino di casa ancora non so che ora rifaccia perché si è svegliato che sono le 9 e un quarto non li sto scegliendo e quindi non lo so non li sto scegliendo eh ah infatti vabbè ci metto troppo scegliendoli effettivamente per i laser style non lo so issima Comunque per chi segue i gossip che faccio su YouTube, la nostra para sta combinando e non si riesce a stare dietro, no c'era un fiorno lilla, ok, 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 tu, siamo nel mondo delle fattole, e vai, fatto, bel lavoro, grazie Stella, scarta la carta, scarta la carta, scarta la carta, yee! Yee, posso anche metterlo nel titolo, finalmente qualcosa Ok, insomma, come avremmo dato molto contenta di questa vittoria. Ok, andiamo, sono già dirigendosi qua, sapevano già quello che sarebbe successo. Lo sapevo. Ah no, sono la muretta, io penso che ho tutta la facciata. Allora questa, non si facessero guardare qua, ma non ce lo fanno fare, ma si faccia così. Ma va a fare un bagno, che ne ho fuso. Io vorrei guardare le scale, vedere quale sta meglio, ma così non riesco. E quindi la faccia vostra metterò grigia. Ora la nostra casa ha delle belle fondamenta salde, probabilmente era un problema che avremmo dovuto risolvere prima. Beh, tipo, la stagionata credo sia questa. Andiamo. Mi sa che la stagionata la faccio scegliere a te. Sì, ok. Oh, bene. Gli occhiali da sole. Ma non facciamoci domande, qua solo per il colore. Ok, lasciamo le mettiamo qua. Mi sembra una cosa che dice. Che forma. Oh, gli occhiali non so se stanno. Vabbè, ma non sono così tanti, per la fine. Eh, no, però. Non è stanza. Allora, mettiamo così. Così, così non ce ne stanno due, però. Come facciamo? Aiuto. E adesso? E adesso questi non li mettiamo? Eh. Mi sembra tutto perfetto qua, quindi. Non credo di dover mettere queste qua. Sono grandi uguali a questi due scafali, no? Allora, queste qua non ci stanno. E mi sembra anche troppo. Cioè, anche se si faccia così non ci stanno, ok? Cioè, se anche tolgo questo, queste qui non ci stanno. Quindi queste per forza vanno qua. Non so se magari questi vanno qui, forse. Ah, ok. Allora, sì. Tutto ha un più senso adesso. Ok. Poi io lascerei questi qua, fatti così a gatto. E questi li mettiamo qua. E rappresentate la pubblicità proprio quando l'avevo completato. E ce l'abbiamo fatta. Scarta, la carta, Halloween, scarta, Halloween. Ho visto la carta. No. Va bene, dai, fa bene lo stesso. Un po' da più un po' sta a casa. Mamma mia. Sempre più raro. Spero che mettono più oggetti di Halloween, visto che ci stiamo avvicinando al periodo. Ok. Andiamo a vincere altro. E' appena uscita la pubblicità di Shein. L'ho vista molto inclusive perché... mettono donne di diverse etnie, diciamo, e anche di diverse forme. Ecco. Quindi, mi piace. Qua mettiamo le cipolle. sono taccole queste. Sono taccole queste. Questa è l'aglio. Lo stretaccole. Forse non andavano qua. No, ma... Che cosa è questo? Qua andranno i pomidori. Che sia c'è pomidoro. Pomidoro. No, non ci stanno tutte le salse, però, eh. Beh, ma c'è anche questo... Questo qui. Questa sarà salsa al pomodoro. Ah, ma non ci stanno le salse. E mettiamo queste, no? Stavo dicendo... Stavo dicendo... Yeah, bel lavoro. Scarta la carta, scarta la carta, scarta. Vabbè. Non mi esprimo più. Hai già capito? No, grazie. Potrebbe non avere la possibilità che ci compriamo quello che vogliamo, no? Invece, non c'è niente. Adesso scegli tu, avrai questa responsabilità. Eh, già. È una grossa responsabilità, molto bella. Eh, guarda questa. Ma, parliamone. Forse questa sarebbe quella che ci sarebbe meglio, però... Devo dire che questa sembra quella famiglia Adams, tanta roba. Te lo dico anche quella di campani sotto, di sottofondo. Quindi adesso tu... Tu, creatura, avrai la responsabilità di scegliere stagionata numero uno, stagionata numero due. No, 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 questa. Stagionata numero tre. Potrebbe, questa potrebbe. Io sarei indecisa tra la prima e l'ultima. Questa qua non mi piace. Anche se, devo dire che magari togliendo la macchina che stona davanti, farebbe pandan con la ringhiera delle scale, lo scorrimano. Quindi sarei comunque indecisa. E quando io sono indecisa, faccio scegliere alla mia creatura. Quindi, creatura, scegli, creatura, scegli la ringhiera numero uno. Non è una ringhiera, stagionata. Stagionata numero uno. Stagionata numero due. Quando dico stagionata mi sembra... Scapolotta, scapolotta la numero uno. E qual cosa era? Shrek? Ma era Shrek, credo, sì. Vabbè. Stagionata numero uno. Stagionata numero due. Stagionata numero tre. Via al voto. Così poi possiamo fare una nuova puntata insieme. Yeah. Ora se questo sarò stato un po' più breve, però è troppo tardi. Sono già le nuove a messa. E sento che tutti iniziano. Ho iniziato prima che potevo. E quindi... Adesso c'è già l'orario che sento che si stanno tutti attivando sotto la mia finestra. A fare casino. E quindi, niente, devo interrompere il video. E spero che comunque sia riuscita a intrattenerti e a rilassarti per questa pennica alla pomeridiana. O per questa domenica sera. In base a quando lo vedrai. E come sempre ti auguro buonanotte, buon... Riposino pomeridiano, buon relax. Ciao creatura.